Sostenibilità lavorativa, giovani, sport e pace. La festa provinciale delle Acli di Arezzo proporrà un focus su tante tematiche di stretta attualità, alla presenza di relatori di spessore nazionale. La diciassettesima edizione dell'evento è in programma da giovedì 6 a domenica 9 in piazza Donald C. del Lazzeri a Ponticino. Abbiamo questo connubio tra la festa del nostro circolo di Ponticino e la presidenza provinciale, più volte è stata sia festa provinciale che regionale. Per noi è un onore, un vanto e anche una soddisfazione poter ospitare sempre la festa sia provinciale che regionale, anche perché è un momento di aggregazione, di crescita sociale, crescita culturale e anche per il nostro territorio è un momento importante e fondamentale. La festa provinciale delle Acli sarà caratterizzata da un intenso programma di iniziative di ingresso gratuito dove intrattenimento e socializzazione si uniranno ad approfondimento e riflessione. Io in particolare mi soffermerei sul primo incontro di giovedì 6 luglio che riguarda la conciliazione dei tempi vita-lavoro, sulla sostenibilità lavorativa, in cui l'allevatura delle persone chiamate a parlare ci aiuterà a analizzare meglio questo aspetto che a noi aclisti, quindi in quanto lavoratori cristiani, ci sta particolarmente a cuore, con l'augurio, l'auspicio che non emerga una contrapposizione tra la scelta di lavorare e di fare famiglia, quanto più una necessità di armonizzazione. La pace sarà infine il tema di venerdì 7 luglio quando alle 19 si terrà il dibattito dal titolo Viviamo una terza guerra mondiale combattuta a pezzi, ritrovare la speranza e la fraternità per riconquistare la pace. Noi ad Arezzo con questa giornata particolare sulla pace teniamo aperta, socchiusa, la porta riguardante appunto la speranza della pace. Solo con la pace si può avere la democrazia.